Approvare la manovra di assestamento di bilancio in tempi brevi prima della pausa estiva è l'obiettivo della maggioranza in Consiglio regionale. Il disegno di legge prima norma finanziaria della Giunta Todde, dopo la discussione generale della scorsa settimana, tornerà in aula questo pomeriggio alle 15.30. In mattinata la riunione della terza commissione per esaminare i circa 1.100 emendamenti, una settantina quelli proposti dalla Giunta regionale. Tra i correttivi dell'opposizione c'è quello proposto dal vice capogruppo di Fratelli d'Italia, Fausto Piga, per l'abrogazione della cosiddetta legge poltronificio e quelli avanzati dei riformatori. La commissione si è svolta in un clima che è stato molto costruttivo fin dall'inizio, sono state avanzate numerose proposte sia da parte dei consiglieri regionali che da parte della Giunta. Oggi abbiamo approvato numerose proposte, in particolare della Giunta, aumentando ulteriormente il fondo unico, arrivando a 30 milioni di integrazione, finanziando il trasporto per gli studenti disabili, finanziando le borse di studio, l'acquisto di mezzi antincendio, cercando di porre rimedio al dramma della siccità. Sono certo che il clima dei lavori si manterrà costruttivo anche all'interno dell'Aula. Il gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che abroga la norma, semplicemente per smascherare i millantatori di moralità. Chi urlava nella scorsa legislatura oggi siede nei banchi dell'opposizione e sta utilizzando quella legge, come se in passato non avesse detto nulla. Quello che è il cuore politico della manovra sta dentro i 30 milioni che la maggioranza vuole inserire per l'acquisizione di quota nel settore aeroportuale. Noi crediamo che non sia ancora il momento che su quello vadano fatti maggiori approfondimenti e quindi, siccome ci sono delle emergenze importanti, abbiamo deciso di presentare degli emendamenti, tra cui tre di questi prendono questi 30 milioni e li dividono, dandone 10 al Fondo Unico per i Comuni, 10 sulle liste d'attesa, quindi per la diminuzione attraverso l'utilizzo dei privati accreditati e convenzionati, e 10 invece per l'emergenza siccità. Crediamo che utilizzare questi 30 milioni per tre vere emergenze della Sardegna sia più urgente e più utile rispetto ad accantonarli in attesa di future scelte nel settore aeroportuale.